Le fonti Instant Focus, l'evento continua questa mattinata dedicata all'analisi del nuovo governo che si sta formando, sono giorni importanti, sono partite le consultazioni e la prossima settimana potrebbe già nella giornata di martedì arrivare la fiducia delle Camere, ammesso che, poi io qui mi fermo, domani effettivamente si verifichi quello che si dice, cioè che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà l'incarico alla Premier di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e che Giorgia Meloni accetterà effettivamente l'incarico, potrebbe accettarlo anche con riserva. Ci sono tanti punti che voglio affrontare in questo spazio, saluto e ringrazio Claudio Borghi, eletto senatore, lega, economista, grazie per essere con noi oggi, senatore Borghi. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno, allora io facciamo così, siccome veramente stavo pensando da dove partire, parto proprio da quello che è accaduto ieri con la fine del governo Draghi che poi fa un po' da passaggio quello che sarà il nuovo governo, velocemente, poi arriviamo naturalmente in modo più puntuale a quelle che sono le proposte vostre, le sue proposte per i prossimi mesi, anzi i prossimi giorni perché poi si comincerà a lavorare in modo serrato. Cosa pensa di quello che ha detto Draghi? 20 mesi straordinari, buona coscienza per il lavoro fatto. Questa è un po' la sintesi del discorso di Draghi. Secondo me, come tutti i giudizi che le persone si autodanno, è abbastanza generoso, ecco mi verrebbe da dire. Io credo che il governo Draghi sia stata un'occasione persa. Secondo me, uno dei motivi principali per cui sarebbe stato notevole avere una persona con quelle caratteristiche al governo, seguito da una maggioranza quasi senza precedenti, insomma, come numero di voti, sarebbe stato quello di andare in Europa e riformare le regole dell'Unione Europea. Questo era, secondo me, l'obiettivo principale che avrebbe dovuto ottenere Draghi. Ricordiamo che il famoso patto di stabilità, quello con cui noi siamo rimasti bloccati per decenni, perché vi ricordate ogni governo all'inizio si scontrava con quelle famose regole senza particolare senso, del 3% del deficit, del dover rientrare per... Allora non andava bene 2,4% di deficit, allora bisognava perdere un mese in discussione per poi dopo chiudere con un compromesso a 2,04% invece che 2,4%. Ecco, tutto questo bizantinismo, queste cose che hanno fatto molto male alla nostra economia, approfittando del fatto che erano sospese in causa pandemia e che tutti, se erano ormai resi conto che erano obsolete, avrebbero dovuto essere riformate. Quindi non so se per colpa di Draghi o per colpa del mancato accordo che esisteva su questo tema in Europa, di questo non si è fatto nulla. Alla fine Draghi verrà ricordato soltanto... Cioè la cosa importante che ha fatto Draghi nel suo governo è il Green Pass e non mi pare sia stato un successo. Ecco, sul Green Pass lei ha preso sempre una posizione molto netta, insomma. Ecco, facciamo così, due domande perché poi mi ha ricordato il Green Pass. Diciamo che Draghi, anche una domanda un po' di provocazione, anche insieme a voi perché avete fatto parte del governo Draghi non è stato molto fortunato perché insomma sono stati 20 mesi caratterizzati da prima la pandemia, che era arrivata dall'eredità di Conte, ovviamente poi si è fatto carico Draghi della pandemia, e poi è arrivata anche tutta la crisi geopolitica con ovviamente un'Europa, e qui torniamo ancora sul discorso dei rapporti con l'Europa, che si è trovata in mezzo perché anche solo banalmente a livello geografico, insomma, la guerra in Ucraina tocca da vicino l'Europa che però ha mostrato un lato dell'Europa molto debole, c'è un'unità che non è unità. Ecco, diciamo che il governo Draghi forse era nato sotto una buona stella, ma poi la buona stella non c'è più stata, cosa risponde? Bisogna sempre tenere presente che il governo quando nasce deve partire con la possibilità che ci siano delle cose che non vanno bene, ecco, ci ricordiamo, non so tanto per dire, il governo Berlusconi nel 2001, partito con ottimi auspici, ha dovuto fronteggiare l'11 settembre, cioè spesso l'emergenza fa parte dello stare al mondo, mi vorrebbe dire, nel caso del governo Draghi ricordiamo che la pandemia c'era già, quindi non è che si può considerarla come un qualcosa di inaspettato e si è passati secondo me da un errore a un altro, cioè vale a dire il primo errore della gestione della pandemia, quello effettuato da Conte, era la politica del lockdown, Draghi ha voluto evitare giustamente la politica del lockdown perché è insostenibile dal punto di vista economico e di scarsa evidenza dal punto di vista scientifico, mi vorrebbe da dire l'ha sostituito con un lockdown personale che aveva minore impatto economico, ma secondo me quando le cose verranno considerate per bene dal punto giuridico è stato molto dannoso per pochi cittadini, mi rendo conto, dal punto di vista dei diritti, insomma. Per il resto il PNRR l'aveva, uno può essere d'accordo o meno, io non sono un fan del PNRR, però l'aveva ottenuto Conte, una cosa che deriva dal governo precedente, e non so, e la questione ovviamente della guerra dell'Ucraina, l'Italia ha accompagnato insomma delle scelte europee, non è che siano stati esattamente protagonisti, insomma, di questa... No, 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 ma in realtà io sarò... Per cui secondo me si poteva fare di più, ecco, mi va bene a dire queste le condizioni. Ok, ok, in generale, ma sull'Europa io sarò ancora più transciante di lei, che non è facilissimo, insomma, in senso buono glielo dico, non ho visto finora delle decisioni effettivamente, indipendentemente da un paese all'altro, prese in modo netto da parte dell'Europa, a parte le sanzioni che originariamente sembravano un po' potessero risolvere immediatamente il conflitto, non l'hanno fatto e anzi hanno, come dire, penalizzato anche la nostra economia. È d'accordo su questo, sulle sanzioni, cosa ne pensa? Cosa pensa? Ma io l'avevo detto sin dal primo giorno, che se ci sono degli interscambi commerciali fra due paesi e si continua ad importare qualcosa, c'è il paese A e il paese B, uno compre i prodotti dell'altro, se uno vuole fare delle sanzioni per penalizzare il paese B, in teoria dovrebbe smettere di comprare i prodotti dell'altro, ecco, no, invece nel nostro caso facciamo il contrario, continuiamo a comprare i prodotti dell'altro, per attire il gas e il petrolio e mettiamo delle sanzioni sui nostri prodotti all'altro paese. C'è qualcosa che non quadra, infatti ci stiamo leccando un po' le ferite, non solo per questo, ecco, prima, e poi cambiamo argomento, cioè argomento, sempre questi sono gli argomenti, ma prima lei ha detto parte, cioè parlando dell'Europa proprio diceva, beh, parte delle decisioni che sono state prese in Europa hanno penalizzato la nostra economia, anche qui provocazione, dobbiamo mettere in conto che la nostra economia è precaria, è nella situazione in cui si trova in gran parte per colpa dell'Europa? Ma no, semplicemente ogni decisione ovviamente viene presa dai paesi nell'interesse nazionale, difficile che un tedesco in Europa decida di pissare una regola o qualcosa del genere pensando al bene dell'Italia. Infatti si fa finta che sia così, dai, questo lo possiamo dire a voce alta, no? Sì, forse qualche volta fanno finta, senza dubbio, però di solito… Non solo la Germania, attenzione, in generale… Tutti, tutti, fino all'Usepurgo, ognuno è lì cercando di fare i propri interessi. Ecco, nel nostro caso, quella che io chiamo l'eurosinistra, invece, per motivi suoi, ha sempre pensato a fare gli interessi degli altri, perché l'intento era, se noi ci facciamo vedere compiacenti, se noi diciamo sempre di sì, ecco che avremo più credito, ma non è così, insomma, di base rispetto ai rapporti di forza. Sarebbe più interessante, tanto come minima strategia, cercare di fare squadra con, se ci sono due parti che lottano per qualcosa, allinearsi con una rispetto all'altra, in modo che sta ottenendo qualcosa in cambio, invece no, noi di base, tutti d'accordo contro di noi e noi a dire sì, fa benissimo. Allora, senatore Borghi, tra poco abbiamo anche cambiato il titolo, si prepari perché lei prima ha detto, giustamente parlando del governo Draghi, un governo quando nasce deve essere consapevole del fatto che possano arrivare delle emergenze, altrimenti saremo capaci tutti di governare quando le cose vanno bene e di emergenze in questo momento ce ne sono parecchie. Prima però le faccio un'altra domanda che si ricollega alle parole che ieri abbiamo sentito da Giorgia Meloni rispetto proprio all'Unione Europea e alla Nato. Lei ha detto, sono caposaldi, chi non è d'accordo fuori dal governo? C'è una Giorgia Meloni che ha ribadito, anche a testa alta, con una certa sicurezza che noi siamo parte dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica. Ha detto, chi non è d'accordo proprio non potrà fare parte del governo, anzi forse ha detto anche qualcosa di più, o il governo sarà così o il governo non ci sarà. Cosa risponde a questo, visto che abbiamo fatto anche il punto sull'Europa? Beh ma è abbastanza ovvio, è evidente che se uno, ma sinceramente io però ne ho incontrati pochi che pensano o che meditano di uscire dalla Nato per entrare nel patto di Varsaria. No appunto, esatto, effettivamente. Non lo so, nella Lega Araba o… No, non si è mai sentito quantomeno, ecco. No, quindi sono delle cose che si dicono ma dovrebbero essere sottintese, cioè poi per carità, di gente che pensa che la Nato piuttosto che così via in realtà non va bene così e che dovrebbe… Ne esistono, però non sono, mi pare, non mi pare che sia mai stato oggetto di dibattito politico fra grandi partiti, ecco c'è qualche piccolo partito che dice fuori dalla Nato e mettiamoci, non lo so con chi, però insomma fra grandi partiti le cose sono così, quindi lo si ripete ma sembra quasi più sinceramente un bisogno di una certa stampa e così via di avere delle professioni di fede perché se no altrimenti chissà cosa succede, allora diciamolo, siamo, atlantisti, i nostri alleati sono gli Stati Uniti d'America, non siamo alleati con la Cina, non siamo alleati con l'India, no qualcosa del genere, siamo alleati con gli Stati Uniti. Beh sì, forse un po' per delle dichiarazioni del passato di Giorgia Meloni che si era un po' posizionata diversamente rispetto a quella che era l'istituzione europea, allora forse ha voluto, credo, non so… Quello è un altro discorso, cioè il fatto di essere eurocritici è una cosa che si può anche rivendicare con orgoglio, io lo sono… Lei lo stavo chiedendo, è euroscettico e eurocritico, lo è ancora, ancora oggi? Io lo sono, è noto, sono convinto che questa Unione Europea abbia dei seri problemi strutturali e quindi anche quando Giorgia Meloni si presenta da altri partiti che sono nel suo gruppo europeo sono quasi tutti eurocritici, cioè Vox piuttosto che Fidesz di Orban, Vox in Spagna è inteso e similare, oppure come nel nostro caso, nel nostro gruppo, l'Assemblea nazionale di Marine Le Pen oppure diciamo, sempre parlando degli alleati di Meloni, il PIS polacco, sono partiti che sono eurocritici ma mi sembra doveroso che in Europa ci sia diritto di critica mi vorrebbe da dire No vabbè, il diritto di critica ci deve essere sempre, ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbe… Mi sembrarebbe strano che l'unica Europa possibile è quella dell'eurosinistra, degli euroburocrati altrimenti non si possa… Quindi il suo, visto che poi sta partendo un nuovo governo e lei sarà un diretto protagonista il suo essere eurocritico, lo è sempre stato, lo ha detto, non l'ha mai nascosto è un essere eurocritico in modo costruttivo, la critica è costruttiva non nel senso che domani lei lascerebbe l'Europa Ma no, certo che la critica è costruttiva, anche perché unilateralmente non possiamo fare praticamente nulla Ok, ok Anche in passato, non è che ho dolcito le mie posizioni, nonostante qualcuno così per motivo di polemica si inventa delle cose che non sono mai state, ma anche in passato sono passati se va bene dieci anni, forse dal 2013 credo quindi ci avviciniamo al decennale della firma del manifesto di solidarietà europeo che è diciamo quello che è sempre stata la mia posizione che prevede una segmentazione controllata e sulla base di diverse posizioni che devono essere ovviamente concordate, l'unilateralità non ce la possiamo permettere ecco mi viene da dire No, no, ma io l'ho fatto proprio la domanda precisa, a me piace andare proprio mirato perché altrimenti poi esatto si creano quelle imprecisioni C'è un sacco di gente che vuole creare la polemica di giornata Non servo, esatto, poi di polemica oggi non ne possiamo più e quindi visto che dobbiamo partire con il nuovo governo, sia voi come politici, sia noi come cittadini insomma credo che fosse doveroso Senta, le potrei chiedere se secondo lei le banche centrali, visto che sono dirette protagoniste dell'economia del momento hanno sbagliato, ma bypasso questa domanda perché secondo me la risposta sarà sì le chiedo in che cosa hanno sbagliato le banche centrali a suo parere visto che abbiamo un'inflazione elevatissima e un'economia lo ha detto anche ieri la Fed attraverso il Bechbook che sta rallentando sempre di più e quindi adesso bisognerà anche un po' per vedere le prossime mosse delle banche centrali ovviamente con tutte le distinzioni che si possono fare tra la Fed, la banca centrale americana e la BCE europea Allora, non credo che le banche centrali siano responsabili di questa inflazione perché questa è un'inflazione d'offerta in buona sostanza non deriva l'inflazione da un eccesso di moneta o da una cattiva gestione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali l'inflazione deriva principalmente per farla semplice dai prezzi di energia se uno volesse fare, e questo non dipende da una banca centrale e se uno volesse fare una spiegazione un po' più raffinata deriva dalla pandemia perché è evidente che dopo due anni di stop così come ci sono stati non sono senza conseguenze un mondo dove c'è un mercato del lavoro e dei fattori di produzione molto flessibile comporta che in presenza di una pandemia la gente prende licenze, chiude, ridimensiona riduce la produzione e così via per evitare di perdere soldi a causa di un mercato che si contrae in modo così brusco è peccato che poi dopo quando si ritorna alla normalità ci vuole un tempo lungo per riprendere la capacità produttiva si pensi a un'impresa che fa gelati tanto per dirne una, se la gente sta chiuda in casa questi ne vendono di meno e nel frattempo licenziano, chiudono impianti e così via se poi tutti sono in strada e vogliono tutto il gelato e la produzione è quella che è allora che cosa fa la ditta molto semplicemente e dice vabbè guardate io prima ne producevo 100 adesso ne produco 50 ma questi 50 ho fuori 100 persone che li vogliono raddoppio i prezzi no 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 ma infatti no no non è sicuramente colpa non merito delle banche centrali quello di aver fatto aumentare l'inflazione ma di essere intervenute troppo tardi? no la banca centrali oppure scusi Borghi se la interrompo oppure di aver oppure di essere intervenuti tardi o di aver accelerato eccessivamente l'iter poi di rialzo dei tassi di interesse no la banca centrale in questo momento secondo me stanno facendo l'errore di considerare un'inflazione che ha queste cause come una conseguenza appunto di politica monetaria quindi se io un'inflazione di questo tipo la combatto alzando i tassi in realtà io sto probabilmente aprendo una forbice pericolosa tra chi può pagare e chi non può pagare certo ho aumentato diciamo così il danno per chi è per esempio indebitato cioè se io ho una casa con un mutuo e spesso volentieri non sono i super ricchi ad avere una casa con un mutuo la mia rata del mutuo aumenta e quindi io mi trovo in difficoltà senza essere diciamo così colpevole di questa impennata dei prezzi e quindi vado a colpire il bersaglio sbagliato mettiamola così no no vabbè certo cioè si penalizzano ancora di più le fasce più debole ovviamente anche perché sono magari le persone che devono comprare cose a rate e ovviamente la rata costerà di più proprio per i tassi maggiori insomma chi non può comprare in una volta sola un bene e spesso anche di prima necessità allora passiamo al prossimo titolo adesso forse sorriderà ho parafrasato il titolo di un'altra intervista che lei ha rilasciato in cui le hanno chiesto molto semplicemente qual è la linea economica della Lega Borghi detta la linea dura della Lega sull'economia io l'ho parafrasata con la linea dura di Borghi allora quali sono le emergenze cioè abbiamo detto prima sono tempi duri voi siete consapevoli Draghi forse lo era meno non lo so ne abbiamo parlato prima ci sono tante emergenze economiche e sociali perché le due cose vanno di pari passo cosa bisogna fare immediatamente a suo parere Borghi? innanzitutto io non ho detto nessuna linea ieri è venuta fuori una foto del tavolo infatti ho messo le virgolette è una mia licenza poetica questa frase che al tavolo di partito del dipartimento economia che si è riunito ancora ieri ma ci sentiamo costantemente ci fossero tante persone fa capire che insomma la mia opinione è una fra tante altrettanto qualificate che fortunatamente siamo un partito che di competenze dal lato economico ne ha diversificate per dire abbiamo persone che sono esperte di mercati finanziari innovativi abbiamo persone che sono esperte di lavoro e così via quindi ci sono sempre dei punti dei momenti di confronto molto fruttuosi la mia linea dura diciamo così era semplicemente e la ripeto legata alle dimensioni dell'intervento cioè noi secondo me non possiamo permetterci che altri paesi europei utilizzano delle grandi cifre per sostenere le proprie aziende e le nostre non abbiano un intervento analogo perché altrimenti è molto banalmente concorrenza sleale è evidente però che questa concorrenza sleale se non viene penalizzata in qualche maniera e cosa dobbiamo fare? cioè facciamo chiudere le nostre aziende perché pagano una bolletta non sostenibile mentre invece un'azienda francese o un'azienda tedesca non la paga perché è aiutata dallo Stato quindi quando io ho insistito e insisto ancora per utilizzare ampie cifre per la questione del caro energia lo faccio per una questione diciamo di sicurezza del nostro tessuto produttivo non per altro e quindi se è possibile ottenere queste cifre con quello che all'epoca era lo scostamento di bilancio adesso non è più all'ordine del giorno perché entriamo in sessione di bilancio quindi questa cifra dovrà essere trovata all'interno del budget diciamo così che viene fissato annualmente quindi io credo e spero che ci sia il massimo spazio possibile e questo sarà compito del Ministro dell'Economia contrattarlo diciamo così anche lì in sede europea tenuto presente che altri contrattano molto di meno mi sembra che annuncino unilateralmente cifre notevoli senza chiedere niente a nessuno e se dobbiamo trovare anche delle cifre interne alla nostra economia giova a ricordare che ci sono tante situazioni che porterebbero chi può pagare a pagare volentieri mi riferisco per esempio al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e similari dove abbiamo decine di miliardi non riscuotibili ma che con un sensato un sensato livello di saldo e stralcio sarebbero pagabili un po' giusto per far capire la situazione se io ho una cartella esattoriale che è lì da 5 anni è un po' equivalente di un vestito che è lì sugli scaffali da 5 anni se io continuo a chiedere prezzo pieno probabilmente non lo venderò mai viceversa c'è un motivo per cui un vestito viene venduto a saldo in certi casi anche a svendita finale perché almeno si incassa qualcosa e si se no si lascia sullo scaffale si impolvera e basta non succede nient'altro vite tempo di processi che non vanno da nessuna parte e così via quindi tenuto presente che ci sono stati dei problemi oggettivi tenuto presente che non stiamo parlando di evasori quelli devono pagare tutto se uno non ha potuto pagare in qualche motivo pur avendo dichiarato e c'è un'oggettiva difficoltà incassare qualcosa e quindi avere più soldi per poter intervenire sulle bollette e far ritornare alla vita serena insomma diciamo certamente lei ha usato una parola un'espressione giusta oggettiva difficoltà io mi auguro questo ma non perché io non seguo il suo ragionamento su quale posso trovarmi anche d'accordo ma sa che spesso poi i controlli in Italia lasciano il tempo che trovano e spesso poi hanno la meglio anche persone che invece hanno volutamente insomma i classici furbetti mettiamola così lo so però è anche vero che non possiamo diciamo così consentire il fallimento di 100 persone perché una è disonesta ecco se il rapporto è questo è anche accettabile speriamo che non sia più grande però sarà insomma compito anche di chi deve vigilare fare in modo che il rapporto perché poi lo zero assoluto penso non ci sarà mai insomma però che sia meno nocivo per gli onesti e per l'economia del paese peraltro insomma abbiamo scoperto anche che le bollette così alte hanno già annullato gli effetti del bonus che era arrivato quindi adesso bisognerà mettere in campo altri aiuti necessari si chiama tanto per dire che la benzina costa 30 centesimi meno rispetto a quello che dovrebbe pagare dovrebbe costare perché c'è in questo momento un taglio diciamo a tempo delle accise delle accise certo che sono state prorogate e vabbè il gas il prezzo del gas è sceso complice anche le temperature miti ancora che abbiamo in ottobre incrociamo le dita che magari potrebbe essere un po' meno pesante il costo però insomma poi deve arrivare anche dall'Europa all'unanimità una decisione altrimenti da lì non ci si sposta siamo quasi in chiusura senatore Borghi ma insomma qualcosa che abbiamo tra virgolette scordato e che invece è necessario dire a chi ci segue cioè le priorità poi avremo modo sicuramente di risentirci ma vogliamo parlare di Berlusconi no no le priorità secondo me devono essere ricostruire un tessuto sociale un'unità nazionale di intenti che purtroppo anche il governo di unità nazionale non ha non ha realizzato cioè ci deve essere un'alternanza ma ci deve essere un rispetto reciproco se cominciamo siamo partiti abbastanza male insomma dal punto di vista della comunicazione perché se si elegge un presidente della Camera e dall'altra parte partono le scomuniche con dei motivi oggettivamente risibili perché perché è cattolico perché si è un po' cosa ovviamente per usare un'altra espressione considerato un po' conservatore diciamo così però praticamente questa roba qua ha in sé un germe di una cosa molto sbagliata cioè vale a dire che l'unico pensiero accettabile in Italia è quello di sinistra altrimenti qualsiasi cosa devida da questo standard non è visto come accettabile per essere una democrazia compiuta se accettare che ci possano essere alternanza che per dire se che ne so se Fico nel suo che non era esattamente il mio modello di persona o di politico come è però se nel suo discorso di insediamento cita Moro lo si applaude e se invece Fontana cita il Beato Acutis si pensa ecco lui non vorrebbe essere citato da questo qui no? così questo tipo no certo e vabbè ma con Berlusconi tutto a posto comunque senatore Borghi l'ho incontrato di persona lì in aula di senato qualche giorno fa e l'ho salutato cordialmente perché non è capace molto per per l'Italia va bene allora io auguro buon lavoro senatore Borghi perché veramente da settimana prossima diciamo così anche se i lavori sono già iniziati però bisognerà rimboccarsi le maniche e mi auguro davvero che possano arrivare subito delle buone notizie per l'Italia ci sentiremo presto insomma se ha piacere la disturberò nuovamente per collegarsi con noi e la ringrazio grazie a voi arrivederci grazie arrivederci